Amante, basta, andiamo! Fammi guidare a mia! Salvatore, non è giornata! Fammi guidare a mia! Ti ho detto levati che non è giornata! Dai, fammi guidare a mia! Guarda avanti e guida piano! Salvatore, mi raccomando! Piano, piano! Dopo andiamo dopo a un cimitero, eh? No, oggi no, che non c'è tempo! Salvatore, salvatore, vai piano! Salvatore, ti diste piano! Salvatore! Disgraziato! Mannaggia! Salvatore, come ne ho? E ora, dove vai? A casa, a bere! A casa, a piedi! Salvatore, vieni qua! Ah va, finicchio, Salvatore, vieni qua! Abbiamo tante cose da fare! No, lasciami stare! Dobbiamo andare ancora alla cava! Salvatore, non mi fai... Salvatore! Sal... Oh ma... Chi sono quelli? Che fanno? Quella è la banda del paese! Che bello! Provano la musica per la precessione, provano per tanti giorni, mettono la santa sul peschiereccio e gli fanno fare il giro nel mare. Così, benedisce tutto il mare. È una festa bellissima! Mi ricordo che mio padre mi ci portava sempre, sai? Mi ci porti magari a mio? Certo che ti ci porti. In primavera. E poi, sai... Passano sotto casa nostra. Hai capito? Proprio sotto casa nostra. Salvatore. Salvatore, ascoltami. Tu, il pomeriggio stai con me. Lavori con me, ce ne andiamo in giro. Però al mattino te ne devi andare a scuola. No, a scuola mi secco. Salvatore, la scuola è importante, Salvatore. Ci avessi potuto dire io a scuola. Tutto quello che si fa da grande, si costruisce da bambino. Io a scuola non ci puoi dire. E per questo sono costretto a fare i lavori più umili. E più faticoso. Senza la sicurezza di portare un pezzo di pane a casa. Ma come? Questa è la vita per mia. E quante cassette pomodoro ci vengono da qui? Sì, ma che boli mia. Che cos'è che mi vuol dire? Ma tu l'italiano lo sai parlare? Ma alla fine di questa discussione. Ma che cos'è che mi vuol dire lei a mia? Che domani ti aspetto a scuola. Sì, sì. Aspetto a con un mene.